Ben trovati all'ultima edizione del nostro telegiornale risolta la questione del primario del reparto di chirurgia dell'ospedale di Isernia. Alla fine è stata seguita la via suggerita dal rettore dell'università del Molise Luca Brunese e così il direttore generale dell'ASREM Evelina Gollo oggi ha firmato il provvedimento con il quale Guido Sciaudone è stato nominato primario del reparto di chirurgia del Cardarelli di Campobasso e Giovanni Vigliardi resta quindi primario al Veneziale di Isernia, il servizio è di Enzo Luongo. Si utilizza la graduatoria del concorso per direttore di unità operativa complessa e quindi poiché il professore Sciaudone è secondo della graduatoria e come sapete è scomparso il primo della graduatoria possa prendere servizio attraverso la graduatoria ospedalina ma sempre come professore della nostra università. Alla fine la soluzione è stata quella che appena due giorni fa aveva suggerito il rettore dell'università Luca Brunese. Il caso del primario del reparto di chirurgia dell'ospedale di Isernia è risolto. L'ufficialità è arrivata con un provvedimento del direttore generale facente funzioni dell'ASRE Mevelina Gollo. Il professor Guido Sciaudone è stato nominato primario del reparto di chirurgia generale dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. Il dottor Giovanni Vigliardi resta così primario al Veneziale di Isernia. Contro la decisione dell'ex direttore generale dell'ASRE Moreste Florenzano di affidare al docente Unimol Sciaudone sulla base di un protocollo d'intesa tra ASRE e Università il ruolo di direttore del reparto al Veneziale al posto di Vigliardi si era scatenata una vera e propria rivolta andata avanti per settimane. L'intera città si era mobilitata anche con manifestazioni di protesta organizzate da Emilio Izzo e poi la politica. Contra gli altri l'assessore Quintino Pallante e la consigliera regionale Filomena Calenda. Quindi nelle ultime ore la parola fine della vicenda a sbloccare tutto in maniera definitiva è lo scorrimento della graduatoria degli aventi diritto così come suggerito dal rettore Brunese. La golla dunque con il nuovo provvedimento revocato quello precedente che Florenzano aveva firmato proprio poco prima di lasciare la guida dell'ASRE. La politica adesso nasce Molise al centro, formazione che si propone di riavvicinare i cittadini alla politica. Punto di incontro dei moderati e delle professioni a tra i propri obiettivi la difesa dell'autonomia regionale. Sentiamo Pasquale Di Bello. Si chiama Molise al centro e già il nome ne designa la collocazione un gruppo di moderati che si appresta a correre per le prossime elezioni regionali e che raccoglie esperienze provenienti dal mondo delle professioni, dal pubblico impiego e dal lavoro. A coordinare la neonata formazione Michele Di Bartolomeo. Noi rappresentiamo un po' e raccogliamo tutti quelli che sono i moderati. Ripeto, noi vogliamo essere attrattivi di quella parte di popolazione che è scontenta della politica, che si è allontanata dalla politica. Immaginare una regione piccola come la nostra, dove c'è un forte disagio sociale e immaginare che vada a votare meno del 40% delle persone veramente ci sconforta. Per cui noi vogliamo essere attrattivi, non vogliamo essere sottrattivi rispetto alle altre forze politiche, vogliamo essere attrattivi di quella parte di popolazione che si sente scontenta della politica. Tre sono i temi principali di un programma in fase di costruzione, difesa dell'autonomia regionale, sviluppo economico e ristrutturazione del sistema sanitario regionale. Noi vogliamo puntare sul programma. Abbiamo puntato su tre punti semplici, perché avere troppe cose sul piatto, poi alla fine sulla tavola, alla fine poi ci porta a non poter fare nulla di tutto quello che vogliamo. Un punto importante, dicevo, è l'autonomia regionale, sulla quale noi insisteremo forte sia con l'uno sia con l'altro schieramento. Lo sviluppo, lo sviluppo chiaramente la regione molise è sotto gli occhi di tutti, sta subendo un calo demografico spaventoso dovuto alla mancanza di lavoro, alla mancanza di investimenti da parte delle imprese. Poi c'è l'emergenza più importante che è la sanità. Ovviamente noi siamo fissi su un paletto. Non si può prescindere dalla sanità pubblica senza il supporto delle eccellenze. Al momento Molise di Centro non ha fatto scelte di coalizione, restando equidistante dagli schieramenti in attesa di condividere il proprio programma con chi mostrerà attenzione alla proposta avanzata. Ci confronteremo con tutte quelle forze che vorranno dialogare su questi tre punti programmatici, che sia centrodestra o centrosinistra. Chiaramente la legge elettorale vuole che ci siano questi due schieramenti per cui non potremmo fare a meno. Non abbiamo la presunzione di poter presentare un nostro candidato presidente, ma abbiamo l'umiltà di voler dare il nostro contributo allo schieramento che vorrà confrontarsi su questi programmi e che accetterà di dialogare con noi su questi programmi. E a proposito dei nomi che circolano e si susseguono nei diversi incontri, tavoli e trattative all'interno della coalizione di centrosinistra e di queste ore una nuova ipotesi di candidatura alla presidenza della regione in vista delle elezioni del mese di giugno. Fonti attendibilissime riferiscono infatti che avrebbero tirato fuori dal cilindro un jolly Daniele Colucci, attualmente giudice della Corte di Appello di Napoli, ma molisano Doc, che ha operato, vive e risiede da sempre a Campobasso. Il suo nome potrebbe mettere d'accordo le diverse anime del centrosinistra, dal PD al Movimento 5 Stelle alle liste civiche. Torniamo alla sanità. Non mancherà il medico nelle ore notturne a bordo dell'ambulanza di Agnone, ma a restare scoperto sarà ora il 118 di Venafro. Intanto nei prossimi giorni il caracciolo potrebbe contare anche su un nuovo medico per alleggerire il carico di lavoro del pronto soccorso. Ci dice tutto Valeria Migliore. La coperta troppo corta del 118 riporta il medico sull'ambulanza di Agnone, ma ne lascia sprovvista quella di Venafro. Il 118 agnonese potrà infatti contare nuovamente su un medico anche negli orari notturni. Lo ha annunciato il sindaco Daniele Saia a seguito di un confronto con i vertici dell'ASREM, da cui è emerso che dopo il 7 aprile l'ambulanza avrà il medico anche di notte. Scongiurata dunque l'ipotesi della mancanza di un camice bianco per tutto il mese di aprile a bordo del 118 di Agnone, paventata nei giorni scorsi per sopperire ai problemi legati alla carenza di personale e alla copertura dei turni in altre zone della regione. Un altro medico inoltre dovrebbe a breve prendere servizio al caracciolo per alleggerire il carico di lavoro del pronto soccorso e di altri reparti. Intanto a rimanere scoperta sarà l'ambulanza di Venafro. In caso di emergenza il medico dovrà partire da Isernia dove però il 118 è già notoriamente in affanno. Con Venafro demedicalizzato può capitare di trovarsi a Isernia o il territorio di Isernia come diceva la collega Miranda. Isernia arriva a volte a Castelpetroso, a Miranda. Trovarsi lì magari su un codice non rosso, un verde, un giallo perché usciamo su tutto e poi magari il rosso capita lontanissimo e c'è la pressione di dover correre sul reale rosso perché qua ci sono incidenti, ci sono infarti, ci sono codici importanti. Quindi magari tu tratti una cosa banale tra virgolette con l'ansia di dover raggiungere poi in poco tempo la realtà grave che si prospetta. Si è discusso oggi al Tarmolise il ricorso del comune di Venafro contro l'ASREM e il commissario ad acta per ottenere l'attivazione di tutti i servizi previsti all'ospedale Santissimo Rosario. Servizi che l'ASREM, scrive in una nota il sindaco Alfredo Ricci, ha dichiarato di non poter attivare a causa di difficoltà organizzative legate alla carenza di organico. Pertanto continua, si è reso necessario il rinvio dell'udienza per proporre ulteriore ricorso che il comune porterà avanti e che riguarderà anche il recente provvedimento con cui è stato disposto lo spostamento del centro Alzheimer già previsto all'ospedale di Venafro in un immobile del comune di Isernia, poi risultato non idoneo. Chiederemo a Toma di prevedere nuovamente il centro Alzheimer al Santissimo Rosario, struttura di proprietà dell'ASREM, in possesso di tutti i requisiti di legge, conclude Ricci e daremo mandato al nostro legale anche di verificare la procedura seguita dall'azienda sanitaria per demedicalizzare la posizione del 118 di Venafro nelle ore notturne. Controlli dei carabinieri del NAS nelle mense degli ospedali molisani, ma è stata anche ispezionata la filiera della pesca. Diverse le irregolarità riscontrate, sentiamo Giovanni Di Tota. Ammontano a 19 le ispezioni coordinate dal Comando Carabinieri per la tutela della salute di Roma che hanno riguardato le mense di tutti gli ospedali di riabilitazione e strutture sanitarie di ricovero presenti sul territorio molisano. Nell'ambito delle operazioni condotte dai carabinieri del NAS di Campobasso sono state riscontrate otto irregolarità riguardanti carenze strutturali e impiantistiche dei locali impiegati per preparare i pasti e l'inappropriatezza e la non corrispondenza delle procedure previste dal manuale di autocontrollo con le operazioni di approntamento e somministrazione dei pasti effettivamente svolte. In tre casi è stata accertata una discrasia tra le attrezzature e i locali notificati e autorizzati dall'autorità sanitaria e quelli effettivamente in uso. E sempre in AS hanno effettuato controlli nel settore della pesca. In particolare sono stati controllati pescherecci e pescherie al dettaglio nella zona del porto di Termoli. Per quattro barche sono scattate sanzioni per carenze igieniche. Irregolarità e carenze igienico-sanitarie sono state riscontrate in una dozzina di attività al dettaglio e la sistematica violazione della direttiva del Ministero della Salute di separare sui banchi di vendita i prodotti freschi da quelli decongelati. Ruba merce per un totale di 5.000 euro in un noto ristorante di Termoli dopo aver forzato la porta per ben tre volte e tentando anche un quarto colpo che però è andato a vuoto. Il ladro, un uomo di 49 anni con diversi precedenti, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato. Le indagini sono state condotte proprio dai carabinieri di Termoli sotto la direzione della procura frentana. L'uomo è stato rintracciato presso la sua abitazione e ora si trova nel carcere di Larino. Ha picchiato la ex fidanzata per strada davanti ad alcuni passanti che hanno chiamato il 113. La donna è stata soccorsa e accompagnata in ospedale dove è scattata la procedura protetta del codice rosso. Medicata è stata poi dimessa con una prognosi di 10 giorni. L'episodio è accaduto in pieno centro a Campobasso qualche giorno fa. L'uomo, una quarantenne del capoluogo che da giorni infastidiva la donna, è stato raggiunto da un divieto di avvicinamento da parte del Tribunale di Campobasso. La procura aveva chiesto la misura cautelare in carcere. La piscina del Parco Comunale di Termoli torna funzionante dopo 30 anni. Ultimati i lavori che rientrano nel progetto di finanza per il trasporto pubblico aggiudicato dalla ditta La Rivera. L'azienda si occuperà della gestione e manutenzione anche dell'area verde di Via del Molinello. Sentiamo Francesca Danversa. Per ricordarla funzionante e piena di gente bisogna riportare la mente e il cuore alla mità degli anni 80. La piscina all'interno del Parco Comunale Girolamo-La Penna a Termoli era un fiore all'occhiello del polmone verde della città, approvata ai tempi dal Coni e ritenuta una struttura all'avanguardia. Ora, dopo più di 30 anni, grazie al progetto di finanza relativo al trasporto pubblico locale, viene riconsegnata ai cittadini. La gestione e la manutenzione dell'impianto del parco sono affidate alla ditta La Rivera che si è giudicata il project. Finalmente i lavori della prima fase della realizzazione della nuova piscina sono completati. Abbiamo fatto la consegna dei lavori, l'abbiamo riconsegnata alla ditta che ha vinto la gara del progetto per i trasporti e finalmente potremmo avere una piscina coperta di 50 metri giù nel nostro parco comunale. La struttura sarà usufruibile anche dalle persone diversamente abili perché è stata realizzata con questo scopo. Il sindaco Francesco Roberti ha espresso grande soddisfazione. L'impianto torna agli antichi splendori e tutti ne potranno usufruire, ha commentato il primo cittadino. Inizialmente sarà destinata alle attività della Federazione Italiana Nuoto e in estate sarà aperta al pubblico. Avremo degli eventi sportivi da livello nazionale perché la Federazione avrà tutto l'interesse a portare nella nostra città questi avvenimenti. Anche perché sull'Adriatico, la nostra piscina, da Pescara a Bari, non ci sono altre vasche da 50 metri. Noi abbiamo apportato una modifica al progetto iniziale. La vasca è attualmente di 51 metri e 50 perché ci dà la possibilità di poterla utilizzare in due parti. Con un pontone centrale potremmo utilizzare la vasca in due aree di 25 metri. Per cui la piscina potrà essere utilizzata secondo le esigenze dell'avvenimento sportivo. Grande attesa per l'inaugurazione prevista per il prossimo 10 giugno e in autunno partiranno i lavori per la copertura della piscina come previsto nel progetto. Altra mazzata per gli agricoltori del Basso Molise che ancora una volta si sono visti recapitare cartelle onerose da pagare. A dirlo è la consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Aida Romagnuolo, la quale chiede che della questione si interessi urgentemente la regione e chiede anche la sospensione di tutti i pagamenti delle cartelle arrivate in questi giorni agli agricoltori. Poiché, spiega il comparto in questione, rappresenta una grossa fetta dell'economia del territorio molisano. Si tratta continua di spese irrigue e di manutenzione del consorzio di bonifica di Larino senza ricevere nemmeno adeguati servizi. L'aggiunta regionale con propria delibera ha approvato l'aggiornamento del preziario delle opere di edilizia 2022. Il provvedimento è stato assunto dopo alcuni ricorsi al Tarmolise che, accogliendoli, aveva disposto la sospensione del documento al 20 settembre 2023. A seguito di una riunione con le parti interessate e con le associazioni datoriali si intendono superate, si legge nella delibera, le motivazioni oggetto delle sospensive del Tarmolise. Il progetto è stato chiamato un'edicola in ogni comune e in poche settimane ha dato subito i primi risultati. Dopo anni di chiusure con tutti i piccoli centri della regione rimasti senza edicole, ora in 31 paesi della regione sono stati riaperti i punti vendita di quotidiani, riviste e libri. I primi risultati dell'iniziativa sono stati presentati questa mattina in conferenza stampa al Palazzo Ex-Gil di Campobasso. Il servizio è ancora di Enzo Longo. Il Molise inverte la rotta e diventa laboratorio nazionale per combattere la crisi dell'editoria. Una decina di anni fa in regione c'erano 350 edicole che nel tempo si sono più che dimezzate, lasciando decine di piccoli comuni senza giornali. Da qualche settimana però è partito il progetto un'edicola in ogni comune nato dall'incontro tra Sostampa Molise, sindacato dei giornalisti, e il gruppo dell'imprenditore campano Vito Di Canto che ha attivato una propria rete di distribuzione in Molise. I punti vendita più piccoli negli anni passati avevano chiuso i battenti per la crisi della carta stampata ma anche perché il distributore che agiva in regime di monopolio aveva imposto loro un costo fisso che annullava spesso ogni possibile guadagno in luoghi dove si vendevano poche decine di copie. Ora con l'iniziativa avviata con il nuovo distributore in poche settimane 31 punti vendita sono stati riaperti in altrettanti comuni e così adesso sono più di 100 i comuni molisani dove il servizio di vendita dei giornali è attivo. Il discorso è uno solo che non si può fare un paese di serie A e uno di serie B e quindi negare l'informazione a queste persone non è sociale, c'è un vuoto, c'è qualcosa che viene a mancare. Noi l'abbiamo visto con questo paese salcito dove la signora Martina da zero venduto è arrivata a un venduto di circa 10-15 quotidiani al giorno. Voglio dire che dove c'è il servizio. Dove c'è il servizio sì, ma non è solo quello ma è un fatto anche sociale. Venire meno a una persona ottantenne non va a fare 10 chilometri al paese vicino per comprarsi il giornale. Quindi è un qualcosa che gli è stato sottratto negli anni invece noi lo vogliamo portare avanti. L'obiettivo del progetto è dunque quello di far arrivare i giornali in tutti i 136 comuni della regione. In conferenza stampa l'ex Gile è intervenuto anche l'assessore regionale alla cultura Vincenzo Cotugno che ha espresso apprezzamento per l'iniziativa. Per il sindacato dei giornalisti ha ribadito il presidente di Assostampa Giuseppe Di Pietro questa è una battaglia di civiltà. Con l'obiettivo di portare democrazia, informazione, civiltà e risolvere un problema sociale nella nostra regione. Lo abbiamo fatto rivolgendosi al mercato con un'operazione che non ha bisogno di finanziamenti alcuni e quindi questo va dato atto all'imprenditore che ci ha consentito di fare, l'imprenditore, il nuovo distributore che ci ha consentito di fare questo progetto, cioè un edigone in ogni comune. Una palestra all'aperto per gli appassionati del fitness e quanto verrà realizzato a Castel San Vincenzo grazie ai fondi messi a disposizione dal PNRR. 20.000 euro provenienti dalla misura sport e inclusione sociale che ha detto il sindaco Marisa Margiotta verranno utilizzati per implementare l'offerta dei servizi destinati sia agli abitanti di San Vincenzo al Volturno ma anche ai turisti. Alleviare il dolore della malattia con un sorriso. Questo è l'obiettivo del corso di clown terapia al quale hanno partecipato gli studenti degli istituti superiori di Casa Calenda. Il percorso formativo è stato organizzato dall'associazione clown terapia Pacioc Onlus di Campobasso rappresentata dal medico Fulvio Fusco. Sentiamo ancora Francesca D'Amversa. Un sorriso può sortire effetti benefici non solo a livello psicologico ma anche fisico in chi sta affrontando una malattia. Una terapia sperimentata negli anni 80 in America dal medico Hunter Doherty Adams che per primo indossò un naso rosso per donare allegria nei reparti oncologici pediatrici. E con l'obiettivo di infondere ai più giovani l'importanza di tendere la mano, di mettere al centro l'altro e di far conoscere il mondo del volontariato che l'associazione di clown terapia Pacioc Onlus di Campobasso ha organizzato un corso di formazione per gli studenti del liceo linguistico e delle scienze umane, dell'istituto tecnico economico e dell'istituto professionale di Casa Calenda. Noi in genere giriamo nelle scuole per infondere ai ragazzi il principio della terapia del sorriso anche se ovviamente io dietro questa terapia del sorriso non ci vedo semplice animazione ma una certa riabilitazione psicofisica. Quindi ci sono tutta una serie di giochi che noi andiamo a insegnare ai ragazzi attraverso i quali il paziente usufruisce di questi benefici e per la mente e per gli arti. Ecco per questo riabilitazione psicofisica. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del percorso per le competenze trasversali e l'orientamento. Al termine del corso tenuto da Fulvio Fusco, medico e docente dei corsi di laurea di fisioterapia e infermeristica, i ragazzi hanno ricevuto l'attestato di frequenza. Alla cerimonia di consegna che si è svolta nella palestra dell'istituto omnicomprensivo Silvio Di Lalla hanno partecipato la sindaca Sabrina Dallitto, Michele Giambarba per l'associazione per non dimenticare gli amici di Tiziana e Graziella Vizzarri, impegnata in alcuni importanti progetti didattici con la scuola dell'infanzia di Casa Calenda. Grazie a questo progetto i ragazzi sono cresciuti dal punto di vista umano e questo aspetto è significativo perché la scuola deve certamente puntare sulla preparazione ma curare anche altre dimensioni della vita, ha detto la dirigente Filomena Giordano, esprimendo grande soddisfazione. domani con il giovedì santo inizia il triduo pasquale, l'arcivescovo di Campobasso Boiano Giancarlo Bregantini ha spiegato dove si terranno le celebrazioni e i riti e ha parlato anche della cattedrale ancora interessata da lavori. Sentiamo. Al via domani con il giovedì santo i giorni del triduo pasquale, l'arcivescovo di Campobasso Boiano Giancarlo Bregantini ha detto che al mattino al santuario della Madonna dei Monti alle 10 ci sarà la benedizione degli oli santi del crisma. Su ai monti perché mancando la cattedrale quest'anno abbiamo scelto quella chiesa antica una delle più antiche di Campobasso, il luogo potremmo dire del castello perché era la cappella del castello quindi lì in quel luogo è nata la città che Campobasso è appunto dal suo nome la città che veniva sotto la zona bassa della città quindi lì è la potremmo dire l'acropoli dove è nata Campobasso. Alle 17 la Santa Messa in cena domini nella chiesa di Santa Maria della Croce. Venerdì santo poi alle 18 la processione del Cristo morto con la dolorata e il coro del Tecovorrei. Domenica di Pasqua alle 11.30 la Santa Messa ancora una volta nella chiesa di Santa Maria della Croce. Che è molto bella la chiesa di Santa Maria della Croce e quindi noi comunque sia tra la piazza e la produzione del venerdì santo le varie parrocchie i riti sono ugualmente belli cariche di messaggio di significato pasquale. In attesa di ritornare al più presto nella cattedrale ancora interessata dai lavori. Siamo a buon punto solo che ci sono tante cosette di natura burocratica ed economica che frenano la completezza dell'opera. L'arcivescovo Bregantini ha detto che è sicuro che questa sarà l'ultima Pasqua con la cattedrale chiusa a Campobasso. Sicuro, sicuro. Possiamo dirlo che l'anno prossimo è sicuro. Cattedrale aperta. Certo. E domani alle 10 su Telemolise, canale 11, la diretta della Messa Crismale alla chiesa della Madonna dei Monti a Campobasso e nel pomeriggio sempre diretta dalle 17 della Messa in cena domini nella chiesa di Santa Maria della Croce. Regalare un sorriso ai piccoli pazienti del Veneziale di Isernia con questo obiettivo tifosi e giocatori dell'Isernia Calcio hanno donato uova di Pasqua e apparecchiature mediche al reparto di pediatria. Sentiamo Valeria Migliore. Un dono bianco celeste è quello che è arrivato nel reparto di pediatria del Veneziale a consegnare le uova di Pasqua i tifosi e i giocatori dell'Isernia che hanno voluto regalare un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati in ospedale. La tifoseria Capaballa Sernia e la squadra di calcio Città di Isernia San Leucio hanno donato anche delle apparecchiature sanitarie. Un gesto di solidarietà che oggi ha portato tanta gioia nel reparto, emozionando medici e infermieri. Ci fa piacere anche questo, anche perché vuol dire che qualcosa di buono viene fatto e viene recepito anche fuori. Quindi ringraziamo tutti che ci hanno pensato. È bello poter regalare un sorriso che poi alla fine non costa nulla, per tutti quanti è una cosa bellissima, quindi insomma per questo sono venuti partiti dai bambini, perché è bello, è stata un'emozione veramente forte e speriamo di ripeterla. E oltre alle uova nel reparto sono arrivate anche le sciarpe ufficiali dell'Isernia. Abbiamo portato una sciarpa, quella ufficiale della società, l'abbiamo regalata ai bambini, è un piccolo gesto per cercare di alleviare un po' la loro giornata, perché poi tutto sommato sono piccolini, per loro è un momento difficile della vita, perché chiaramente sono ricoverati in un momento anche di festività, come dicevo prima. Quindi per carità, noi quel poco che possiamo dare, insomma, siamo qua pronti. Giornata di orientamento post diploma per gli studenti del liceo Majorana Fascitelli di Isernia. I ragazzi si sono confrontati con i referenti di università, istituti di formazione e accademie per conoscere le diverse opportunità di studio o di lavoro. Ce ne parla Enrico De Simone. L'importanza del confronto tra studenti e università, accademie e scuole di specializzazione al liceo scientifico dell'Istituto Majorana Fascitelli di Isernia, giornata dedicata all'orientamento in uscita. Nel percorso scolastico i ragazzi hanno avuto modo di scoprire le vocazioni, i talenti, le certitudini. Adesso è il momento di valorizzare il percorso scolastico intrapreso e avere gli strumenti per poter accedere consapevolmente alla costruzione del proprio progetto di vita. E qui intervengono le università, gli atenei, gli istituti formativi, ma anche agenzie del mondo del lavoro, anche per consigliare su quelle che attualmente sono le professioni più spendibili, per così dire. Noi cerchiamo di valorizzare i ragazzi e dargli l'indirizzo per far sì che le loro scelte possano essere indirizzate su quelle che sono poi le istituzioni di prossimità, il dipartamento del territorio. Dialogo diretto, senza barriere tra ragazzi e referenti, presentate alle offerte formative, le opportunità di lavoro dei vari percorsi post-diploma, si spazia dalla ricerca al web design, dalle attività nelle forze armate alla realtà virtuale. Un'esperienza di orientamento innovativa, prevede l'utilizzo di visori, all'interno dei quadri i ragazzi possono vedere la sede della Demos e capire anche quali sono i percorsi formativi che attiveremo ad ottobre. Si può fare un percorso formativo dentro l'Università del Molise che porta anche in termini di placement ad essere estremamente competitivi perché poi le esperienze che si fanno sul territorio sono numerose, c'è una forte tendenza, un forte orientamento all'internazionalizzazione, una grande cura nei percorsi Erasmus. Dunque il complesso del curriculum è perfettamente in grado di seguire e essere competitivo su tutti i fronti però al tempo stesso con il guadagno di una fortissima vicinanza e prossimità al corpo docente, alle strutture amministrative. Allora, l'Istituto InfoBasic è un istituto di alta formazione certificata e cerchiamo e riusciamo da 24 anni a questa parte ad offrire ai nostri corsisti percorsi appunto sia nell'area digitale che nell'area di design e che gli offrano soprattutto una possibilità di placement molto molto alta e quindi un'offerta lavorativa il prima possibile grazie alle competenze trasferite. È tutto, termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e arrivederci.